Buongiorno a tutti, gentili telespettatori, siamo all'ampia pagina sportiva ancora con l'atletica leggera in primo piano, ovviamente con i mondiali in corso di svolgimento a Budapest. Oggi Tamberi, neoiridato, torna in Italia ed avrà pochi giorni per preparare l'appuntamento comunque prestigioso con la Diamond League giovedì prossimo 31 agosto a Zurigo. Il capitano della nostra nazionale ha fatto un tifo scatenato per un suo cittadino, l'altro anconetano Simone Barontini, impegnato ieri sera nella terza semifinale degli 800 metri. Centrare la qualificazione era davvero un'impresa, ma l'atleta azzurro classe 1999 ci è andato davvero ad un passo, tanto che non manca un pizzico di rammarico. Sentiamo. Una splendida prestazione con tanto di personal best, con un piccolo retro gusto amaro. Anche ieri Simone Barontini ha dimostrato di essere un agonista pure e di esaltarsi nelle competizioni più accese. Inserito in una semifinale piena zeppa di talenti ha lottato con tutte le sue forze, rimontando dall'ultima posizione e giocandosi tutte le sue chance in un combattutissimo sprint finale. Sbruffa, sgomita, super avversario incitato dal suo grande amico Gianmarco Tamberi a bordo pista. Sfiore il quarto posto, si deve accontentare del quinto. Eccellente il riscontro cronometrico, 1,44 e 34, 16 centesimi, meglio del tempo ottenuto a Molfetta, quando, nelle immagini, si laureò campione italiano, rintuzzando tutti i tentativi dei suoi rivali. Davanti a lui comunque fuori classe assoluti, dal keniano Vangione allo spagnolo Ben, dallo statunitense Rice al francese Mesian. Ciò creduto veramente tanto, ha detto Baro, 24 anni, porta colori delle fiamme azzure nel post-gara, ed aggiungiamo noi, sarebbe stato un mezzo miracolo, brucia e basta, dovevo esserci in finale. Ed anche questa dichiarazione certifica la grinta e la determinazione feroce di un ragazzo di cui sentiremo ancora parlare, ed ai massimi livelli, con la benedizione di Gimbo, ovviamente. Siamo al calcio, potrebbe profilarsi un importante colpo di mercato in eccellenza, dove la maceratese avvicina l'ingaggio di Minnozzi, in uscita dall'atletico Ascoli, attaccante davvero in grado di spostare gli equilibri. In serie D, il fan acquista Guido Guerrieri, portiere di 27 anni lo scorso anno in forza alla San Benedettese di Renzi. Granata quindi, hanno deciso di affidarsi ad un estremo difensore di esperienza. E sta terminando ad Ascoli la conferenza stampa del tecnico William Viale, alla vigilia della già delicatissima sfida di domani sera al Braglia di Modena. Sentiamo alcune anticipazioni da Mario Larocca. Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere la seconda giornata di campionato che è in programma domani sera allo stadio Braia di Modena, appunto tra il Modena e l'Ascoli. In realtà è la prima partita di campionato per il Modena, in quanto i canarini, allenati dal neotecnico Bianco, nella prima giornata avrebbero dovuto affrontare la ventesima squadra di Serie B, che è ancora un'incognita ad oggi. Precedenti 14 al Braglia con 6 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 5 vittorie bianco-nero. Una curiosità, si è partiti dalla stagione 76-77 con l'1-0 per il Modena contro l'Ascoli, appunto gol di quello che poi divenne un giocatore bianco-nero, ossia Gianfranco Bellotto. Nella stagione seguente, la 77-78, quella dell'Ascoli dei record, vittoria nell'ultima giornata di campionato per l'Ascoli, l'11 giugno per ben tre reti a due, con doppietta di Ambu e Quadri, con doppietta di Mariani per la squadra di casa. L'ultimo precedente, favorevole all'Ascoli, con il successo 1-0 dei bianco-neri, il primo marzo 2023, con il gol di Pedro Mendes. È proprio Pedro Mendes, il giocatore che molto probabilmente guiderà l'attacco dell'Ascoli, in Ascoli decimato dalle squalifiche, a quella di Bellusci, che sconterà l'ultimo turno di squalifiche, si aggiungono le tre giornate a Francesco Forte, la giornata a Buchel e l'altra a Falasco. Quindi squadra ovviamente rivoluzionata, come potrebbe essere anche rivoluzionato l'ultima parte del calcio-mercato. Dionisi ed Eramo, che erano ai margini del progetto bianco-nero, potrebbero, rientreranno sicuramente tra i convocati nella partita di domani, ma potrebbero cambiare le strategie. Forte interessamento, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, della Cremonese per Buchel e Francesco Forte, che potrebbero raggiungere Michele Collocolo, già grigio-rosso. Quindi queste sono le fasi salienti del calcio-mercato. C'è poca davvero chiarezza, anche in quello che succederà in casa Ascoli, che però deve sicuramente guardare il campionato. Una settantina di tifosi ad oggi presenti alla Braia, limitati per la seconda volta consecutiva per l'utilizzo della testa del tifoso. Ne erano appena tre a Cosenza, ne saranno, credo, sotto i 100 a Modena. Mentre quasi 6.000 sono gli abbonati in casa giallo-blu, che vedranno appunto per la prima volta al Braia. Domani sera alle 20.30 in campo, la squadra appunto del Modena. Quindi squadre appunto in campo alle 20.30, per l'Ascoli c'è già bisogno di far appunti e soprattutto placare un ambiente che è tutt'altro che sereno. E nel frattempo l'Ascoli ha risolto consensualmente il contratto con Danilo Vento. La Lancona ha comunicato oggi di aver ceduto in prestito l'attaccante Luca Lombardi al Brindisi, sempre in Serie C, e la vispesa ropprende in prestito dalla Salernità nel centrocampista, ventenne Antonio Pio Iervolino. E chiudiamo con il volley. Il lunedì comincerà ufficialmente la nuova stagione della Pallavolo Macerata con la squadra che si radunerà agli ordini di coach Castellano. A più di un mese dall'esordio nel campionato di Serie 3, quando il 15 ottobre ospiterà la Jazz British Bari, gli atleti bianco-rossi divideranno la preparazione tra il palazzetto e la palestra Lume Fitness Club. Per prepararsi al meglio sarà la prima occasione nella quale si incontreranno i numerosi volti nuovi arrivati quest'anno a Macerata che andranno a rafforzare il gruppo di confermati per una squadra che nonostante i cambiamenti cercherà il successo in campionato. È tutto anche per la pagina sportiva. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento di giornata.